MotoGP, Yamaha, crisi tecnica sempre più profonda Mentre i reparti corse di Ducati e Honda potranno passare un sereno ferragosto alla luce degli ottimi progressi compiuti, non potranno fare altrettanto gli uomini Yamaha La casa di Ivata esce con le ossa rotte dal Gran Premio d'Austria, palesando difficoltà nel tenere il passo della concorrenza in gara, ma soprattutto dimostrando che alcuni problemi presenti già ad inizio stagione risultano ancora irrisolti e forse saranno irrisolvibili Per ammissione dei piloti è stato fatto tutto il possibile col materiale a disposizione ed il loro passo è stato identico, così come uguali sono stati lunghi in curva 1 commessi da ciascuno nel tentativo di tenere il passo di Dovizioso e Marquez, fatto che getta il box blu in uno stato di sconforto Se nelle ultime stagioni e dall'inizio di quella in corso si era sempre detto che Yamaha fosse la moto più equilibrata, ora affermare ciò corrisponderebbe ad un errore, in quanto è evidente che ci siano lacune tecniche non risolvibili solo con regolazioni di assetto La M1 2017 ha in comune con la 2016 un consumo eccessivo della gomma posteriore, con la differenza che la versione precedente si dimostra spesso più veloce, guidatasi da due ottimi rocchie come Zarco e Folger, ma che sicuramente non hanno l'esperienza divinale se soprattutto di rossi Il precoce consumo della gomma posteriore è testimoniato dal fatto che per 10 giri rossi è riuscito a stare con i primi, mentre poi, tralasciando il lungo che lo ha fatto precipitare lontano dalla vetta, i suoi tempi sul giro si sono inesorabilmente alzati fino ad arrivare ad una situazione in cui andava fino ad un secondo più piano dei migliori, così come il suo compagno di box Vinales Il precoce Debole della M1 si ha insito nel posteriore che spinna e che surriscaldandosi esce dalla temperatura ottimale di funzionamento, andando in crisi I motivi per cui ciò accade possono essere di natura ciclistica o elettronica, ma è più probabile che sia la seconda delle due ipotesi, e quindi si tratterebbe di una certa difficoltà nello scaricare a terra tutti i numerosi cavalli delle motog podierne A ciò si può ovviare tagliando potenza utilizzando una mappatura più soft, ma è una scelta che non paga su una moto come la M1 che non fa della potenza del motore uno dei suoi punti di forza La via da percorrere per venire a capo della questione è invece legata all'erogazione della potenza, cioè lavorando sulla centralina si potrebbe riuscire a dosare la giusta apertura delle farfalle del propulsore in curva senza perdere di potenza nel complesso, ma è uno studio che richiede tempo Dal canto loro i piloti non sono contenti di questa confusione tecnica e si dicono in parte rassegnati per il mondiale, Rossi con franchezza ha dichiarato che è inutile parlare di lotta per il titolo quando si arriva a sesto e settimo, mentre Vinales ha detto che con una moto così difficile da capire non si sente incluso tra i pretendenti per la vittoria finale Il distacco dei due da Marquez tuttavia non è incolmabile mancando ancora molte gare alla fine, ma a preoccupare sono le prestazioni della M1, nelle ultime tre gare inferiore a Honda e Ducati In questo scenario di sfiducia arriva in modo provvidenziale la giornata di test che la Yamaha effettuerà domenica prossima a Misano, dove si proveranno nuove soluzioni tecniche in un tentativo estremo di salvare la stagione Per quest'ultima il termine fallimentare non è adatto perché comunque sono quattro le gare vinte dalla Yamaha, ma di sicuro un negativo si addice bene viste le premesse ben diverse che c'erano alla vigilia del Qatar Per quest'ultimo episodio Per quest'ultimo episodio